swedish house mafia ma l'avete visto il setup che stanno preparando no gli diamo un'occhiata sta bomba qui amici ma soprattutto amiche di esso esplodigio siamo curiosissimi di vedere che cosa ci proporranno gli swedish house mafia con questo setup veramente particolare tutto da scoprire avrò bisogno anche di voi andiamo a vedere che è sta roba ecco qua ci siamo catapultati sulla pagina instagram degli swedish house mafia dove c'è scritto il loro world tour 2022 e vedete ci sono parecchie date ma la prossima è quella del quaccella che avevamo detto già nel video di quaccella e andando sulla pagina vedete che c'è questa foto messa qualche giorno fa che non è passata inosservata ai più smanettoni ai più curiosoni come sono anche io ed ecco qua sta bomba atomica stanno preparando il set e vedete qua c'è scritto proprio meno 36 giorni due giorni fa quindi diciamo che adesso ne manca 34 e dovrebbe corrispondere alla data del quaccella quindi il concerto nel deserto che tutti molti stanno aspettando per il ritorno di questo trio della musica idm di un tempo adesso hanno cambiato un po situazioni però quello che ci incuriosiva e ci incuriosisce tuttora e ne vorrei parlare con voi è che è sta roba e stiamo vedendo un agglomerato di strumenti totally white che ricordano molti strumenti che noi conosciamo ed alcuni probabilmente creati per l'occasione oppure voi li conoscete quindi andiamo anzitutto a vedere che tutti i messaggi ci sono scatenati in un turbine di idee un turbine di proiezioni su ciò che possa essere molti come la penso anche io ci vedono tanto setup tanto hardware di native instrument ma anche pioneer andiamo ad analizzare secondo quello che pensiamo noi con il vostro aiuto magari qua sotto nei commenti su cosa potrebbe essere ed allora l'abbiamo scaricata non è in una buonissima qualità raddrizzata per cercare di capire che cosa possa essere tutto stambaradan e anzitutto vediamo che sono tre postazioni quindi una con la console dove questi potrebbero essere dei due cdj 3000 white un mixer che da vedere che cos'è un'altra postazione da dove possono eventualmente mandare degli effetti dei campioni o tutto quello che noi ancora non sappiamo e poi una postazione con un sacco di pippoli come si dice noi e la machine probabilmente adesso andremo anche a vedere nel dettaglio se possono essere queste cose quindi tre sono loro tre sono le postazioni quindi una bella console come ai vecchi tempi quando si mixava in più dj che si collegava a quattro giradischi e campionatori e tutte queste cose quindi mi piace questa idea sicuramente se c'è da dire una cosa prima di andare a fare un'analisi mi piace che tutti i dj quando sono più di uno interagiscono l'uno con l'altro non come vediamo siamo abituati a vedere dove spesso due tre dj in back to back così come viene chiamato spippolano uno sui filtri uno su un canale uno su un altro non si può vedere chiunque tu sia anche se sei michael jackson che torna sulla terra a mixare tre dj sullo stesso mixer a toccare uno tocca un piatto uno tocca un lettore veramente una roba inguardabile mi piace che ognuno abbia la propria postazione poi loro ovviamente producendo insieme saranno sicuramente molto affiatati andiamo a vedere che cosa può essere partiamo dalla parte bassa la machine andando a calcolare che è una roba bianca eccola qui dovrebbe essere proprio la machine del 25esimo anniversario ne avevamo parlato in un tutorial con questa edizione white eccola qua la machine mk3 e a dire il vero sembra proprio lei se andate a confrontarla vedete qua i due schermi e qua i due schermi della machine mk3 qui ci sono altre postazioni di knob o bottoni con un display sopra che sicuramente mostrerà tutto ciò che accade e sarà probabilmente collegato questo non lo possiamo sapere non possiamo sapere tutto però ci interessava spettacolare un po su questo andando nella seconda postazione sembra anche qui in totally white che ci siano due controller non uguali e questo potrebbe sembrare il primo un f1 perché però bianco non esiste l f1 eccolo qui conosco molto bene perché ce l'ho l'altro invece nella foto sembra essere un x one sempre bianco e questo tornerebbe perché l'x one rientra nei quei in quegli hardware che sono stati messi nell'anniversario in colorazione bianca ed eccolo qua vedete bianco con lo schermo al centro e questo potrebbe essere x one f1 di seguito due cdj 3000 sembrano proprio la white edition eccoli qua quindi vediamoli proprio dall'alto avvaliamoci del var con mazzoleni ecco qua si sembrano proprio cdj 3000 fallo rigore per il pisa dai e c'è un mixer nel mezzo e qui è un bel dilemma aiutatemi anche voi nei commenti perché questa è la mia idea non è detto che sia quella giusta a me ricorda un allen it un po vecchiotto che l'x one 96 e che questo qua ed è chiaro grigio ma non è bianco sicuramente non è quello però una cosa che ci somiglia molto i due schermi dei pain cdj 2000 ma c'è anche un display aggiuntivo sopra poi tutto il resto spero siano collegamenti e spero che non sia altra roba non vediamo strumenti tastiere quindi probabilmente tutto questo verrà suonato con i knob e con i pad questo è quello che sembra quindi una machine mk3 white edition un x1 mk2 nella versione white edition un f1 forse che però bianco non lo so se lo saranno fatto tingere perché per loro sicuramente tutto è possibile due cdj 3000 white edition ed un mixer che ancora non è chiaro swedish house mafia che li vediamo in questa foto leggermente appesantiti e un po cambiati nel tempo infatti i commenti non sono proprio così gratificanti il primo che vediamo questo che dice sebastian sei invecchiato ma ecco la gente veramente se c'ha da sparare spara subito è questo qua non ci ho pensato però vabbè ci ha messo le facce che ride d'accordo quindi cambiato molte cose per gli swedish house mafia tra cui le collaborazioni come avete visto con the weekend e un sacco di nuove nuove cose questo è il sito ufficiale con i tre pallini famosi con il tour con lo shop e con la musica vedete qua l'ultimo motto e flame con the weekend e red light l'ultimo singolo insieme all'intramontabile sting bene io mi metto qua a sbirciare nel mezzo davanti a vedere i che combinano questi tre acqua cella l'evento è vicino però abbiamo circa un mese per indovinare tutto ciò di cui è composto che abbiamo circa un mese per indovinare tutto quello che c'è qui dentro non si vince niente ve lo dico subito però la curiosità è grande fatemelo sapere qua sotto nei commenti s o s fordj academy i corsi ufficiali di s o s fordj attenzione potete fare tutto con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form o tramite facebook che trovate ovunque nelle informazioni e anche durante il video stesso per chi sono indicati corsi e lezioni per chi inizia da zero per chi è già bravo e vuole migliorare il suo percorso perché non riesce a crescere per chi vuole fare il salto definitivo verso il professionismo le consulenze su tutto ciò che viene trattato su s o s fordj hardware software problemi anche burocratici tutto ciò che non vi torna contattatemi in privato tramite il sito tramite facebook tramite instagram ma solo per chi vuole fare corsi e lezioni consulenze per tutto il resto mettete nei commenti le vostre domande oltre alla pagina facebook cioè instagram dove potete seguirci la nostra community telegram gratis notifiche silenziose chat interna un sacco di contenuti extra puoi farne parte già da subito ed il canale youtube iscriviti se ancora non l'hai fatto e abbonati vatti a vedere il video cliccando qua su abbonati con i contenuti extra la corsia preferenziale che diamo ai nostri amici che collaborano con noi poi attivare la campanella se vuoi essere informato in tempo reale su tutto ciò che accade in anteprima sul canale quindi video tutorial live streaming dirette che torneranno e poi mettere un mi piace o condividere con i tuoi amici se pensi che tutto ciò possa essere loro utile come il sostenere s o s fordj se pensi che siamo una risorsa per te che ti teniamo sempre informato inoltre tutorial novità spoiler tutto ciò nel mondo che ti riguarda ci vuoi offrire un caffè lo puoi fare tranquillamente tramite questo tasto qua cari amici smanettone di esso e sfordigio lo so che l'avevate visto anche voi sicuramente ma adesso è il momento di tirare le somme e dire ma che roba è questa quindi fatemi sapere sotto nei commenti l'elenco di queste tre postazioni separate e secondo voi dei tre axwell angelo ringrosso chi starebbe nelle varie postazioni cioè chi nel centro chi a destra chi a sinistra facciamo un po di spettacules tecnologico da parte di ss4dj e cloud vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata vi ricordo l'iscrizione al canale per noi fondamentale ed importantissima ma anche per voi per rimanere sempre aggiornato su tutte ciò che vi può interessare ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiri pipi pipi